Ricoverato da alcuni mesi in una clinica romana, da diversi giorni versava in condizioni critiche. Ieri sera si è spento all'età di 98 anni l'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, il presidente delle prime volte. Prima volta di un ex comunista a capo dello Stato, prima volta di un presidente rieletto per il secondo mandato, conclusosi poi con le dimissioni nel 2015. Messaggi di profondo cordoglio sono stati espressi trasversalmente dalla politica nazionale, ma anche da esponenti di quella internazionale. Tra questi il segretario di Stato americano Anthony Blinken, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il presidente francese Emmanuel Macron, quello russo Vladimir Putin. Significativi quelli della presidente slovena Natasha Peirce-Mussar, dell'ex capo dello Stato sloveno Borut Pahor e del presidente croato Zoran Milanovic. Quasi preferenziale, infatti, il rapporto con questi paesi. Storico quel 13 luglio del 2010, un evento di pacificazione a Trieste con i capi dello Stato sloveno e croato Danilo Turk e Ivo Josipovic. Una giornata che si concluse con il concerto Le vie dell'amicizia, diretto da Riccardo Muti. A questo seguì il 3 settembre 2011 il concerto Italia e Croazia assieme in Europa, all'Arena di Pola, con la dichiarazione congiunta di Napolitano e Josipovic. Poi la visita a Ljubljana, il 24 giugno 2011, per il ventennale dell'indipendenza della Slovenia. Infine, il 7 luglio 2014, l'incontro con Borut Pahor a Montesanto, a Gorizia, dove i due presidenti inaugurarono una targa commemorativa in ricordo dei caduti della Grande Guerra. Domani al Senato, la Camera Ardente. I funerali di Stato si svolgeranno martedì prossimo alla Camera, sul sagrato di Piazza Montecitorio, con una cerimonia laica.